Salve a tutti, siamo al primo appuntamento del campionato italiano FIA Formula 4 nel circuito di Adria. Questa pista è la prima del campionato ed è una delle piste più corte, circa 3 km, dove si utilizza la sesta marcia solo alla fine del pritto principale per Curva 1 che viene affrontata in terza marcia. Successivamente c'è un rettilineo dove si arriverà in quinta alla fine del dritto con un downshift in seconda marcia, pronti ad uscire terza, quarta, quinta verso il tornantino che sarà un tornantino a destra sempre in seconda marcia da 80-75-80 all'ora. uscita verso la Chicane 4-5 che viene affrontata in quarta marcia, in uscita quinta verso la Curva 7-8 che vengono affrontate anche queste in seconda marcia. Uscita dall'ultima parabolica c'è poi un'ultima destra che si affronta anche questa in terza marcia, in seconda marcia e con questo abbiamo finito il giro di Adria. L'asfalto di questa pista non è molto severo sui pneumatici, sulle gomme, è una pista molto liscia che non sollecita troppo i pneumatici. è necessario avere un setup non troppo rigido, questo per permettere di poter sorpassare i cordoli, soprattutto della Chicane 4-5. Ha dei banking abbastanza importanti, così come delle curve molto ampie dove è molto importante saper gestire le fasi di frenata e di ingresso curva.